Il San Marco di Mr. Gudini si riconcilia con i tre punti e dà tre calci alla crisi di risultati, sbloccando il match nella ripresa e portando a casa tre punti che cominciano a smuovere la sua classifica e con le riprese di Marco Barbaglia andiamo a rivedere i momenti più importanti del confronto diretto dalla signorina Margherita Fioravanti della sezione di Firenze. La prima emozione è la regala Rotesi che da sottomisura c'entra il palo e l'evone che nelle battute iniziali cerca di sorprendere gli avversari. Scampati il pericolo il San Marco prende l'iniziativa del gioco alimentando la sua manovra offensiva e mantenendo una certa supremazia territoriale. Barbagli prova il colpo di tacco ma senza fortuna. E' prima frazione di gioco che si chiude con il tiro cross di Rossi e pallone respinto dalla parte superiore della traversa. Non cambia la fisionomia del gioco nella ripresa con il San Marco sempre in avanti a fare la partita. Insiste l'undici di Gudini e Barbagli pesca nel mezzo Rossi che di testa sblocca il match in questo modo. Poi è stocchi a portare palla e metterli in movimento Rossi che mette in mezzo dove arriva puntuale alunno e comodamente può mettere a segno la rete del raddoppio. Il levone prova a reagire in ocenti di impegno alla presa a terra Pasqui. Poi Guizzanti fa tutto da sole, conclusione che si perde sul fondo di poco e brivido per Pasqui. Il San Marco adesso gioca in contropiede e Barbagli va a segno, però il direttore di gara ravvisa una irregoletta e non convalida. Sale di tono la gara che comincia a offrire continui capovolgimenti di fronte e a seguito di un contatto in aria il direttore di gara segna il penalti agli ospiti calciato da Oxa e rispinta da Pasqui che poi blocca la conclusione ravvicinata dell'avversario. Nel finale, prima il San Marco c'entra il palo, poi con la rete di Matteo Barbagli fissa il definitivo 3-0 che comincia a far muovere la sua classifica.